mannaggia è pure ricato però what's up boys benvenuti in un nuovo video rega io sono a casa adesso con la febbre a 39 e si sono in delle condizioni un po disastrose ho un nuovo taglio di capelli qua come vedete e volevo però portarvi un film che ho visto ieri giusto prima di ammalarmi sarà una coincidenza beh comunque parliamo di elvira un'icona per tanti del cinema horror dato che è una donna mezza psicopatica sexy che veniva messa di mezzo fra un film horror e un altro o comunque prima dell'inizio e dopo la fine del film semplicemente perché ha le dette grandi ed è simpatica ma soprattutto perché ha le dette grandi infatti c'è questa enorme strumentalizzazione della donna in tutto il film però da una parte abbiamo anche una donna sicura di sé soprattutto che riesce a tirare fuori le palle è un po strano da dire in questo caso mi trovo proprio davanti a un film con una grafica pessima a un dvd con una grafica pessima perché c'è lei in copertina c'è lei nel retro però non si vede la scena del film per cui io ho preso sto dvd tempo fa ma non avevo la più pallida idea di cosa ho fra le mani se una serie tv se degli episodi se qualcosa oltretutto io elvira non la conoscevo semplicemente perché come vedete proprio c'ho fisicamente sempre solo ti vuol dire ma tu sta che è un film e la trama non ti aiuta per un cazzo perché fa un allegra commedia horror eccovi la storia di elvira una spumeggiante regina del macabro che cerca con uno stile di vita decisamente fuori dal comune di trovare l'amore della sua vita e non c'entra un cazzo con quello che il film cioè trama chi ha scritto questa trama chi si è chi chi ha sudato per scrivere queste tre righe non si è visto il film non si è visto non c'entra assolutamente un cazzo perché il film parla di lei che vuole fare uno show a las vegas si è rotta un po le palle dei programmi tv di ogni tipo che ci prova spudratamente con lei facendo il maiale e vuole trovare dei soldi per aprire il suo show a las vegas per cui obiettivi un po più grandi di quello che ha fatto generalmente fatto sta che una zia alla lontana gli c'è dell'eredità ma non sarà così facile per lei prendere questi soldi poi oltretutto ci stanno cose di mezzo ovviamente ci stanno dei nemici alcune situazioni un po horror a tanta gente contro di lei e il tutto tenuto in vita appunto da lei che si mostra dalle conoscenze che fa da parti un po comiche e in più questi retroscena horror e ci sono tante trovate simpatiche che tengono in vita il film ma soprattutto come dicevo prima tanti personaggi che le ruotano attorno distribuiti bene ovvero che c'è appunto chi l'aiuta e chi cerca invece di buttarla giù di andare contro di lei qui si parla proprio di gruppi di persone oltre vari antagonisti un po più rilevanti quindi fa conoscere meglio chi è il personaggio del vira specie a me che cioè l'ho rivista più volte ma mai un episodio qualcosa soprattutto sa avere degli sviluppi anche appena interessanti dato che per dire seppur sei a 40 minuti di film succedono sempre cose in più poi qualche situazione qualche personaggio un po lo perdiamo un po dopo lo ripreghiamo però riesce a non essere troppo confusionale in tutto ciò quindi questo era tutto ciò che ne pensavo della visione di questo film se l'avete visto se avete diverse opinioni siete liberi di scriverlo qua sotto e noi in caso ci becchiamo a un prossimo video ok vi dico che c'è pure un kill count in questo film che beh oltre alla zia defunta ci sono due vittime piccola curiosità dato che ho avuto modo di vederlo recentemente il vira è comparsa pure sulla televisione di un cartone animato il scupido ritorno nell'isola degli zombie quindi elvira versione cartone animato altre curiosità che il film ha avuto un sequel e che il titolo originale è proprio questo elvira mistress of the dark beh